Oggi, 10 gennaio 2019, ricorre il 28esimo anniversario della prematura scomparsa, all'età di 36 anni, del compianto artista Giuseppe Di Marco, le cui origini familiari sono legate a Giungano, pur essendo nato a Udine il primo settembre del 1954. Conseguì nel 1974 la maturità scientifica. Si iscrisse all'Accademia di Belle Arti di Venezia, dove frequentò il corso di pittura del noto maestro Emilio Vedova. Nel 1981 si trasferì ad Agropoli e continuò gli studi presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli, con il maestro Carmine di Ruggiro, diplomandosi con il massimo dei voti. Contemporaneamente conseguì, da privatista, il diploma di maturità artistica presso il Liceo Artistico di Eboli. Prestò servizio in qualità di assistente annuale alla Cattedra di Pittura, presso l'Accademia delle Belle Arti di Napoli. Negli anni, dal 1978 alla sua morte, partecipò a numerose mostre collettive e personali, oltre che a rassegni di pittura in tutta Italia, conseguendo brillanti riconoscimenti. Premio Rizzoli per la grafica a Padova, premio Giappelli, premio Guttuso al terzo concorso nazionale di pittura e scultura, premio Campagnola, medaglia d'argento all'ottavo premio nazionale a Venezia di pittura e scultura, premio il Pordinone, primato con Coppa EPT di Pordinone per l'Opera Concerto, il premio per la grafica al concorso nazionale di pittura e grafica di Verona, diploma d'onore Città di Jesolo. Numerose volte l'artista ha presentato i suoi quadri ad Agropoli, presso la Storica Galleria. Numerose volte l'artista ha presentato i suoi quadri ad Agropoli, presso la Storica Galleria, Centro d'Arte e Il Faro. Nel 1981 espose le sue opere presso la Sala Consilari di Giungano, che, dopo la sua morte, gli ha intitolato la stessa. Il 13 agosto 1993, con la donazione da parte dei genitori di una collezione delle sue opere, tuttora ivi esposte e offrendo l'arredamento completo dell'Aula Consiliare. Dalle recensioni di numerosi critici d'arte, si vince quanto il giovane pittore fosse artisticamente molto preparato. La sua grafica dal segno nitido, precisa ed efficace, rivela come suo campo d'azione il simbolismo e l'onerico, con una interpretazione soggettiva ed irreale dei problemi. Dai suoi quadri balza evidente il lavoro paziente di fine disegnatore, preoccupato soprattutto di scavare in profondità nel subconscio. Giuseppe Di Marco è sepolto con i suoi genitori nella cappella di famiglia del cimitero di Giungano. Quanti l'hanno conosciuto? Ne apprezzano ancora non solo le sue indubbie doti d'artista, non adeguatamente ricordate, ma soprattutto la sua umanità, che si esternava in un affetto profondo per tutti coloro che lo circondavano.